Si è verificato un netto aumento dei contagi settimanali da Covid-19 nella settimana tra il 20 e il 26 ottobre. I nuovi casi registrati in sette giorni sono infatti passati da 17.870 a 25.585, pari al 43,2% in più. Questo balzo in avanti dei contagi potrebbe essere in parte causato dal consistente aumento dei tamponi effettuati, una crescita determinata soprattutto da coloro che ricorrono al tampone per ottenere il Green Pass. Aumentano del 7,5% rispetto alla settimana precedente i ricoveri in ospedale e cresce anche il tasso di positività in seguito a tampone molecolare. Nello stesso arco di tempo calano bruscamente le somministrazioni delle prime dosi del vaccino anti-Covid, scese del 53% tra il 20 e il 26 ottobre. In questo stesso periodo si sono inoculate complessivamente circa 152.000 dosi al giorno di vaccino anti-Covid. È quanto emerge dal nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. Era stato approvato alla Camera il 4 novembre 2020, ma il DDL Zan non riesce a passare al Senato. L'Aula di Palazzo Madama ha infatti votato a favore della tagliola chiesta da Lega e Fratelli d'Italia. Per il decreto contro l'omotransfobia proposto dal deputato del Partito Democratico Alessandro Zan salta così l'esame degli articoli e degli emendamenti. 154 senatori hanno votato a favore della tagliola politica con voto segreto, prevista dall'articolo 96 del Senato e che permette ad un senatore per ciascun gruppo di stoppare l'esame degli articoli di un disegno di legge prima che questo sia cominciato. 131 sono stati invece i contrari e 2 gli astenuti. L'esito della votazione è stato comunicato in seguito a scrutinio segreto ed è stato accolto dall'Aula con un applauso. L'iter del DDL Zan è ora di fatto bloccato. Prosegue la lotta alla falsificazione del Green Pass da parte delle autorità ma continuano anche i tentativi di aggirare le regole. Alcune chiavi per la generazione del Green Pass europeo sono infatti state sottratte e poi diffuse in rete. Per completare il raggiro della norma oltre alle chiavi sono stati forniti dei programmi per la creazione dei certificati falsi. Lo rendono noto fonti qualificate italiane che rivelano inoltre che tutti i pass generati con le chiavi sottratte verranno annullati. La situazione è al vaglio dei tecnici e degli esperti di sicurezza informatica europei, i quali però al momento non conoscono ancora l'esatto numero di codici sottratti. Secondo i primi accertamenti però, il furto non avrebbe riguardato le chiavi utilizzate per i Green Pass in Italia. In questa stagione sono attesi dai 4 ai 6 milioni di casi di influenza stagionale vera e propria, ai quali si aggiungono le sindrome parainfluenzali e naturalmente i casi di Covid-19. Lo ha dichiarato il virologo e docente dell'Università Statale di Milano il professor Fabrizio Pregliasco, intervistato da SkyTG24, il quale ha proseguito spiegando il rischio che si corre nel sottovalutare l'epidemia di influenza, scampata l'anno scorso grazie a misure e restrizioni, ma difficile da scongiurare per il secondo anno consecutivo. Il virologo spiega infatti che anche l'influenza può essere pericolosa, soprattutto per i fragili, e che nelle annate normali questo virus provoca dai 6 mila ai 10 mila decessi. In ultimo, la diagnosi differenziale sarà complicata dalla diffusione di virus con manifestazioni patologiche simili in contemporanea. Quest'anno, dunque, secondo Pregliasco, anche gli adulti sani dovrebbero vaccinarsi contro l'influenza.